18.000 dipendenti in meno nel mondo della scuola dal settembre 2009, tra docenti e personale ATA. Una manovra economica, quella del governo, che non ha lesinato tagli di risorse al mondo dell'istruzione, ha portato ad una drastica riduzione degli organici nelle scuole pubbliche campane. Sul problema hanno voluto puntare i riflettori le segreterie del comparto scuola regionale, che hanno sottoscritto una lettera di richiamo alla responsabilità inviata a Palazzo Santa Lucia. L'istruzione pubblica campana è compromessa dalle politiche di riduzione della spesa pubblica, per cui è stata avanzata, formale e richiesta alla Regione di sollecitare il Ministero competente ad aumentare gli organici delle scuole statali, al fine di garantire non solo l'innalzamento della qualità dell'istruzione, ma anche parità formativa rispetto agli studenti delle altre regioni d'Italia. Oggi le scuole della Campania, soggette a un'edilizia scolastica fatiscente e carente, soggette ad un numero di alunni per classe che non possono essere accolti, soggette soprattutto ad un tempo scuola, non consono alle richieste delle famiglie, ma soprattutto ad un'equiparazione che dovrebbe vedere la Campania, con il proprio diritto costituzionalmente sancito, di avere un diritto allo studio coerente con le leggi dello Stato. Ecco, tutto questo non c'è, la scuola della Campania è in ginocchio, il tempo scuola manca, le strutture mancano, il personale è troppo poco, le scuole probabilmente non potranno aprire.